Sono Catalano Marco della Atlem e Valtec, distributore esclusivo di Uroni in Italia da circa 30 anni e sono il direttore generale dell'azienda. Qui presentiamo un nuovo prodotto che abbiamo lanciato a metà di quest'anno ed è la prima presentazione ufficiale sul territorio italiano, la PX20, un prodotto che raccoglie una grande tecnologia cercando comunque di mantenere un importo di vendita assolutamente competitivo sul mercato. Questa macchina è una macchina custom che viene fornita con le migliori tecnologie disponibili al miglior costo assoluto, equipaggiata di controllo numerico Siemens 828 in digitale, tutta la macchina ha una struttura di ghisa di circa 4 tonnellate di peso complessivo, cambi utensili di serie, mandrino 8000 giri di serie, abbiamo tutti gli assi montati linearmente con i motori perfettamente in assi alle viti e possiamo permetterci performance di assoluto livello di assoluto prestigio. È una macchina che viene promossa oggi con un importo a partire da 39.900 euro sulla macchina base per salire con 4 taglie di macchina da 510, 410, 510 fino alla più grande che è una 760 per 510 per 510. Questa per noi è una macchina entry level al quale teniamo molto e al quale teniamo molto puntare e valorizzare il nome Huron. Huron, 165 anni di storia e assolutamente non andiamo a pregiudicare il nostro nome per una macchina comunque di anchiatura commerciale.